E' esagerato. E' esagerato. Sì, è esagerato. E vabbè, adesso non esagerare. Eh no, esagero sì, perché non si può. E uno è lì che sta mangiando, è lì che sta mangiando con una ragazza, e tutto a un tratto, chi arriva? Arriva un cameriere. Uno crede che sia un cameriere qualsiasi, invece no, è lui il deficientone. Hai capito? Viene lì e ti fa gli scherzi, tira fuori la ciabola, parla della leonessa, tira fuori gli scampi, li fa verdi. Ma dimmi cosa può pensare adesso una ragazza di me? Dopo che succede, cos'è che può pensare? E dimmi cosa può pensare, io non so cosa può pensare, capisci? Io non so. Posso dividere con te questo tremendo dolore che ti affligge? No, non c'è niente da fare. No, non c'è niente da fare. Sono triste. Vabbè, insomma, io dico, se uno ha un amico che gli dice che va a prendere le carte, e poi invece di andare a prendere le carte va a cena con una ragazza, e non dice niente a questo amico che è lì che lo aspetta credendo che sia andato a prendere le carte. Ma insomma, io dico, ma porca di una miseria, perché non ha invitato anche a me al ristorante. Che cosa ho io che non funziona a tavola? Cosa faccio? Sputo mentre parlo, puzzo, ho la scarnatina, e non fare quella faccia lì dei becille! Guarda la tua piuttosto di una faccia. Ma lo sai che ho preso un colpo nel momento in cui tu hai tratto il telefono in quel modo, poi lo sai che ho preso un colpo e mi sono spaventato? Ma non fare il cretino che era scarico! Ah, era scarico, lo sapevi tu che era scarico, deficientone. Io non lo sapevo, ho preso lo spavento, porco! Tieni giù le mani! Vuoi non alzare la voce? Non muovere le mani! Vuoi! Vuoi! Grazie a tutti